Dimmi il nome di un attore, un personaggio famoso uomo che è considerato bellissimo all'unanimità Leonardo Di Caprio Voi ragazzi fate questa cosa carinissima che se uno di noi tira fuori il nome Leonardo Di Caprio Fate, non lo so, troppo perfetto Ma che vuol dire? Che vuol dire sta cosa? Noi uomini non abbiamo paura di ammettere tutti che per noi Scarlett Johansson è una figa spaziale Ma Anzi, sentiamo quasi di avere il diritto di scoparcela, va Se fosse qui, figurati se non avrei una possibilità con Scarlett Johansson